Non possiamo non considerare che la morbidità sanitaria ha costi notevoli sia economici ma anche e soprattutto psicologici che sono a volte insostenibili sia per i pazienti piccoli che per le loro famiglie. Credo che la riduzione delle diseguaglianze, così come la centralità del malato, la maggiore integrazione tra i vari setting assistenziali sono i grandi temi di cui oggi occuparci e sono anche molto discussi e previsti nel piano oncologico nazionale. Questo è un documento che, come sapete, individua nella rete oncologica il modello organizzativo più adeguato per dare una risposta assistenziale integrata e completa con un approccio multidisciplinare e multiprofessionale. Questa credo sia la strada da seguire anche cogliendo a pieno le opportunità del PNRR che individua nel potenziamento dell'assistenza territoriale una delle finalità centrali degli investimenti nel campo della missione salute.